Mettiamo un po' di premietti e poi arrotoliamo l'asciugamano così Arrotoliamo tutto Perfetto A questo punto prendiamo il cane e vediamo cosa propone Vedete che piano piano lo sta Arrotolando Quasi sfruttolato tutto Bravo 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 Bravissimo Questo è un gioco di attivazione mentale Il cane deve capire come poter avere il cibo Brava Brava Bravissima Bravissima Molto brava Gravissima 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 Bravo 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 Bravissima Gravissima Brava cerca ancora bravo super brava 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 bravissima brava 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 brava